ciao in questo tutorial andremo a vedere come si realizza il ciondolo occhio di drago il nome mi è stato suggerito da un'amica e il ciondolo è questo l'ho fatto in due colorazioni però da questo con con questo si può realizzare anche questo ciondolo qui perché fino a qui è comunque uguale a parte che qui dobbiamo inserire due 15 0 e un bicono e quel bicone anche qua dunque non cambia niente cambia solamente qui per farlo leggermente più piccolo e dipende da noi se tiriamo bene il lavoro non tiriamo bene il lavoro si incurva o non si incurva tutto lì ecco io ringrazio tutte le persone che si sono scritte al mio canale ok iniziamo col tutorial vi mostro la lista dei materiali per poter realizzare il nuovo ciondolo allora io uso questa che ormai non si legge più neanche il nome della del colore però il codice questo sono le delica le rocai uso queste cerco di farvi vedere il codice per poi delle super duo ho già preparato il tutto i biconi usano questa colorazione queste che io non mi ricordo neanche come si chiamano però si si legge di questa colorazione un rivoli del del 12 chiusero il crystal è questa colorazione qua ok iniziamo con la con la registrazione farò la mia incastonatura con 32 delica di base ok e partirò la registrazione del 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 ciondolo dal dal link da aver già fatto il ciondolo con link alla classica incastonatura con le delica e io sono arrivata ad aver finito di incastonare il mio rivoli da 12 mm davvero appena appena finito l'incastonatura si si mette a fuoco adesso mi sposto nelle perline per andare a uscire in questa centrale in questa ok prendo una delica e mi inserisco poi qui ne dovremmo inserire un'altra ma noi saltiamo che ne metto una sì e una no c'è un nodino piccolino nel filo ok un'altra delica e rinserisco in quella centrale del ok perché parole una sì e uno no per tutto il nostro giro adesso inserite due risalto passando nelle nostre delica ok c'è un nodino ok faccio così per tutto il mio giro facendo molta attenzione ok ho fatto tutto il mio giro mi sono spostata per andare a mi infilare nella prima delica che abbiamo inserito adesso per me sarà un problema ricordarmi i nomi delle perline perché di solito ne le dimentico però io adesso inserisco una super 2 una di queste che non so come si chiamano che non non ve lo ricordo mai così 3 15 0 1 2 3 ok rientro in questa cosa e riprendo una super 2 e mi infilo nella delica in questo modo per avere le perline messe così poi con molta calma perché qui bisogna farlo con molta calma mi risposto passando nelle delica sotto dell'incastolatura questo qui è uno dei passaggi più delicati mai si è impigliato il filo nel cavalletto io un po perché adesso c'ho sempre quello di no che ok pian pianino mi sta spostando e riesco dalla delica e rinserisco la stessa sequenza di prima ok super duo questa e tra 15 1 2 3 manda in fondo al mio filo rientro nell'altro foro ok super duo e rientro nella delica allora adesso bisogna fare così per tutto il nostro giro poi per renderlo più stabile sa che è un passaggio molto delicato da fare ripasso in tutte le perline in modo che rimangano molto più stabili ok ho passato tutti i miei il mio passaggio sono risalita nella super 2 e in questa che non mi ricordo come si chiama ripasso nelle 3 15 0 inserisco 3 super 2 1 2 1 3 mi infilo nel foro della super 2 che avevamo infilato prima prendo un bicono da 4 ok così riprendo 3 super 2 1 2 1 3 e mi rinfilo nelle 3 15 0 tenendo il filo tirato ma non eccessivamente e poi vado avanti a infilare le mie 3 super 2 super 2 sotto bicono super 2 dell'altro pezzettino e vado avanti così per tutto il mio giro io adesso ho passato anche il filo in tutte le lavorazioni per renderlo come ho detto più stabile adesso se volete fare questo se volete fare questo qui comunque in ogni caso ci dobbiamo spostare nello stesso modo per ora ci spostiamo in questa perlina nella super 2 nella prima super 2 di questo 20 così cerco di far vedere ok e se facciamo questo dobbiamo inserire 2 15 0 dove abbiamo questo dobbiamo inserire 2 15 0 e sopra questa un altro bicono ok se facciamo questo e andiamo avanti così in poca parole per tutto il nostro giro cioè nel senso che qui inseriamo 2 15 2 15 un bicono 2 15 2 15 sopra bicono un altro bicono e poi lavoriamo e consolidiamo il nostro lavoro e questo sarà comunque fatto però io adesso vado avanti per fare questo allora esco da un foro di una super 2 e inserisco un'altra super 2 sì se non impimi si impiglia il filo sono più contenta poi prendo un altro super 2 e mi rinfilo nella super 2 siamo sopra questa perlina qua prendo questa ma entro in questo modo in modo che poi nel nostro lavoro ci si vada a mettere al contrario di quella che è sotto in questo modo c'è troppa luce aspettate un attimo si vede meglio ho chiuso mezza finestra sembra di sì poi prendiamo 6 15 1 2 3 4 5 e 1 6 ok rientro nel suo orellino e nella super 2 successiva poi prendo un'altra super 2 e mi infilo nella super 2 successiva un'altra super 2 e super 2 successiva bicono da 4 sempre ecco ce l'ho fatta uno dei motivi che non usavo più le super 2 era questo perché trovo sempre una super 2 con dei fori da tappati non so il perché non so se perché io gli ho come sono anni che li ho comprati queste super 2 non sono da adesso ok comunque vado avanti prendo un'altra super 2 entro foro successivo un altro super 2 e foro successiva e ripeto la mia sequenza con questa sempre presa in questo verso 6 15 0 1 2 3 4 5 e 6 mando giù rientro nel foro e nella super 2 e vado avanti così per tutto il mio giro finito il mio giro adesso comunque ne faccio uno per consolidare il lavoro mentre che faccio questo di giro di consolidamento devo aggiungere una perlina ok passo in tutte in modo che si fissi bene entro solo in 3 15 0 prendo una delica e rientro nelle altre 15 0 e poi vado avanti a far tutto il mio giro la quella la delica la inserisco in poche parole in tutte le punte poi una la userò per fare la solina e le altre rimarranno per un modo che si crei proprio la punticina fatto tutto il mio giro inserito tutte le mie deliche in punta adesso sto uscendo da qui rientro nella mia superduo in questo modo prendo una superduo e rientro nella superduo successiva facciamo attenzione perché come ho detto abbiamo tirato già il filo rientro se ce la faccio perché non vedo nulla in questa superduo così risalgo cosa non facendo andare il filo rientro ancora nelle 3 15 0 da sovagnia presa 1 2 1 3 nella delica rientro nelle 15 0 da sovagnia presa 1 e rientro solo in questa superduo così risalgo in questa e prendo una superduo ok riscendo in questa facendo come ho detto attenzione perché prima di tutto perché il bicono mi può tagliare il filo e poi comunque perché ci siamo già passati anche tante volte così e vado avanti a risalire una sola delica facendo sempre molta attenzione una delica riscendo in questa una delica riscendo in questa riscendo in questa entro nelle 15 nella delica io non ho tirato fuori e 15 ancora prendo 9 9 e 15 3, 5 6 8 9 ando in fondo sto uscendo dalla mia delica da di lì rientro di qui rientro nelle 15 le volte che vogliamo ovviamente io ci entro qualche volta perché mi piace che l'anellino sia bello resistente e poi dobbiamo riscendere e andare a finire il nostro lavoro ok io scusatemi se continuo a girare ma non lo vedo bene ok scendo e vado avanti a inserire le mie delica cioè le mie super duo come ho fatto qua qui il ciondolo terminato ciao alla prossima ciao ciao ciao